regionali abbiamo da prima questo appuntamento con il Movimento 5 Stelle poi ne abbiamo un altro con un altro schieramento che si presenta a queste elezioni intanto un saluto a Raffaele Erba dovrebbe esserci anche Rosaria Battaglia infatti l'abbiamo scritta ma per il momento non c'è buongiorno Raffaele buongiorno buongiorno a tutti e con un piccolo signori per chi è in radio non vedo ci ascolta però sui social ci vedono ecco diciamo che si è aperto un lato di una porta non se ne è aperto un altro e ho picchiato leggermente un pezzettino di zigo uno scontro uno scontro violento con la porta ok diciamola così sei punti sei punti vabbè qualche voto lì l'hai preso ho fatto visita poi non istituzionale a un pronto soccorso come ti sei trovato visto che ovviamente poi questo è il tasto dolente ma parliamo subito di sanità e soprattutto ecco presentiamo magari anche il programma di Raffaele Erba ripeto candidato regionali Movimento 5 Stelle aspettiamo Rosaria Battaglia sì innanzitutto vabbè colgo anche l'occasione per ringraziare il personale medico che mi ha soccorso a tutti i volontari dell'ambulanza eccetera perché devo dire sono sono bravissimi nonostante la maggioranza di regione lombardiere di Attilio Fontana ci metta proprio cioè del proprio per metterli in difficoltà abbiamo comunque la fortuna di avere un personale medico infermieristico e tanti volontari d'eccellenza che nonostante tutte le difficoltà danno veramente il massimo e quindi questo anche il mio perlomeno la mia personale esperienza devo devo dire che nonostante tutto nonostante tutto cercano sempre di dare il meglio ai loro stessi con una generosità estrema comunque dobbiamo cercare di metterli in condizione per fare meglio il proprio lavoro e come e come fare Raffaele so che questo è uno dei dei cavalli di battaglia che sai sai che come sanità c'è tantissimo da fare soprattutto a livello organizzativo a livello di quello che comunque l'ambito del privato dobbiamo cercare di dare un maggior peso e dare maggiori investimenti sul sul pubblico gli strumenti sono tantissimi ma anche soprattutto a livello organizzativo come dicevo la sanità di territorio anche questo aiuterebbe molto a sgravare quelli che sono appunto i pesi dei pronto soccorsi perché tante volte e questo ho visto tante persone si rivolgono appunto al pronto soccorso per cercare di ricevere dei servizi che potrebbero essere dati tranquillamente attraverso la medicina di territorio la volontà c'è da parte di tante associazioni tante categorie l'ordine l'ordine dei medici e per dire la cosa la cosa è che soprattutto e che soprattutto se li si impara ad ascoltare forse riusciremo a dargli la possibilità di dare il loro contributo e organizzare meglio la sanità però non si devono trovare il muro di gomma che hanno trovato fino a oggi con la maggioranza guida fontana o con l'assessorato di gallera o della moratti perché ricordiamo gallera assurdamente è capolista a milano e noi ci ricordiamo benissimo crozza quanto ha ricamato sopra a quello che era il duo attilio fontana e dicevamo e gallera e questo purtroppo c'è ha mostrato assurdamente in ironia ma quello che è una triste verità e quindi purtroppo dobbiamo capire che forse oggi è arrivato il momento di cambiare allora ricordiamo ecco nel frattempo è arrivata anche rosaria ci ha raggiunto in studio buongiorno buonasera meglio ormai ciao rosario niente 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 scusate il traffico di comune ma che strano dopo dopo che c'è stato appunto l'abbandono dello smart working per i frontalieri adesso purtroppo queste scelte sbagliate si pagano e si rivede poi dopo molto più traffico e questo da oggi oggi il primo giorno quindi rosario tu hai vissuto in prima persona il traffico e parcheggi lo so questo è questo è un po' allora tra poco poi sentiamo anche il programma di rosaria e la sua presentazione continuiamo con te raffaele visto che non abbiamo fatto neanche poi comunque la tua presentazione è giusto ricordare se tu sei consigliere regionale uscente ti sei ricandidato per il movimento 5 stelle ecco diamo anche due indicazioni dove abiti allora io abito a erba mi occupo di sicurezza sul lavoro qualità e ambiente ho un piccolo studio di consulenza ormai come dicevo sono 18 anni che ho aperto quindi io tutto sommato la mia attività professionale grazie anche ai miei collaboratori anche in questi cinque anni di grande impegno in regione lombardia siamo siamo riusciti a stare in piedi questo per dire che cosa ho un impegno professionale da da molto tempo ho quello che è comunque l'impegno politico ormai sono dieci anni cinque come attivista nel movimento e poi cinque anni nelle istituzioni in regione lombardia devo dire una bellissima esperienza in minoranza in opposizione nel momento penso peggiore per la lombardia perché con quello che abbiamo vissuto con il covid è stata un'esperienza molto difficile ma anche perché purtroppo avevamo una maggioranza che ha dato il peggio di quello che potevamo ricevere e quindi ci rimettiamo in gioco per offrire un'alternativa alla lombardia per offrire quello che appunto un'alternativa molto credibile candidato con la lista a sostegno di maiorino inteso come io sono movimento cinque stelle la nostra lista come movimento cinque stelle sostiene la candidatura alla presidenza di pietro francesco maiorino così almeno abbiamo definito perfetto poi passiamo anche al come votare eventualmente appunto a raffaele e adesso presentiamo invece rosario battaglia ciao rosario buon pomeriggio buonasera a te carta identità chi è rosario rosario battaglia sono di mariano sono presidente di un'associazione lavoro presso una cooperativa sono una ragioniera ok perché questa scelta di scendere in campo perché c'è un'esigenza molto urgente che è quella di dare voce alla donna alle donne violentate e alle donne maltrattate e ai loro bambini e tutti occupi di questo in modo particolare la mia associazione e ho deciso che era il momento di scendere in campo il movimento cinque stelle ma dato carta bianca nel senso mi ha dato spazio per poter essere presente con questo mio programma e niente io ambisco ad essere la portavoce di queste donne questo è uno degli impegni allora rosario giusto questo è molto importante è sempre stato da città dieci anni a questa sì no dico ma anche la candidatura ha anche questa valenza importante giusto cioè la mente sì esatto categoricamente sì ed è questo il tema che io porterò avanti lasciamo a raffaele il tema ambiente trasporti che bravissimo ecco invece su questa cosa qua ecco un'altra un'altra considerazione rosario purtroppo ti occupi di questo problema da tanti anni e purtroppo non non possiamo dire che è un fenomeno in calo no assolutamente no ne hanno appena ammazzate 125 ma noi non stiamo parlando solo di donne ammazzate sia chiaro no no ma in generale le donne maltrattate cioè di donne che stanno vivendo giorno dopo giorno il dramma della violenza e purtroppo devo dirle agli in aggiunta a questo c'è il problema della violenza istituzionale cioè per come vengono svolte le pratiche attinenti inerenti tutto quello che è il mondo della violenza perché c'è una grande lacuna anche da parte delle istituzioni purtroppo cioè chiedete più attenzione chiederete più attenzione nel caso doveste andare appunto a rappresentare più tutela vabbè più centri antiviolenza sicuramente però più tutela nei tribunali soprattutto nei tribunali nel momento in cui vengono denunciate i fatti perché purtroppo io lo devo dire pluri denunciati hanno anche la facoltà di vedere i figli e magari denunciati anche per pedofilia per effetto di una legge che che non è stata più riformata ma che andrebbe riformata che è la 54 sulla bigenitorialità ci sono bambini e sono tanti che vengono collocate dal padre pluri denunciato solo perché questa legge permette la bigenitorialità cioè tu anche se sei un malavitoso hai diritto a vedere i tuoi figli e questo produce dei drammi immensi dei traumi immensi alla mamma alla famiglia alla società ma soprattutto ai nostri futuri uomini e donne che sono questi bambini perché io sinceramente lo dico così brutalmente pensare tutte le mattine che ci sono 40 mila bambini richiusi nelle comunità con introiti ingenti su questo perché su ogni bambino viene percepito 400 da 100 a 400 500 euro in base all'età ma io quello che dico è non è possibile che noi siamo qui a parlare oggi stasera alla radio e ci sono 40 mila minori bambini rinchiusi nelle comunità quando se una donna denuncia il maltrattante per pedofilia sarebbe giusto e opportuno che in comunità ci vada messo subito lui e non i bambini questo è un meccanismo che si ripete tantissimo dove la donna denuncia supponiamo questo è uno degli esempi è no no certo certo che ne occupi lo sai che denuncia questa persona dalla denuncia a quando poi succederà il fatto passeranno anni in tribunale anni con spese esose sui sui legali ma i bambini vengono comunque portati via portati via dove in comunità per per essere tutelati ma noi ci diciamo ed è un grido questo che è un grido che porto da parte di tutte le mamme portati in comunità perché per essere messa la protezione ma tu allontani il bambino dalla madre e questo non va bene perché produce davvero delle riperscursioni sociali molto gravi ed ecco qua perché la rosaria è la portavoce la rosaria la portavoce perché queste donne non possono giusto parlare ecco questo è un intervento è anche importantissimo quello che di rosaria che oggi tu hai voluto al tuo fianco e io spero di averla sempre al mio fianco perché da noi per lo meno con noi diciamo nasce una collaborazione tantissimi anni e diciamo anche i loro flash mob con l'associazione con quello che sono le sue iniziative le conferenze quello che il suo impegno su questo tema è un qualcosa che per lo meno coltiviamo da molti anni da diversi diciamo da diverso tempo la questione è che una donna come lei riesce a far inquadrare molto bene quello che è un tema fondamentale che poi viene declinato in questo suo appello su un tema diciamo un ambito ben specifico ma poi c'è tutta la parte anche di parità di genere parità di trattamento quelli che sono le declinazioni o le sfumature che anche nel mondo del lavoro spesso viviamo e su cui regione lombardia può incidere molto può fare perlomeno molti diciamo interventi per riuscire a migliorare determinate condizioni può farsi anche parte come posso dire parte interessata per stimolare in questo caso lo stato ad attivarsi su temi ben specifici conosciamo gli ambiti territoriali e quindi è giusto farsi promotore di certe iniziative come diceva invece per quello che riguardava i centri antiviolenza ne abbiamo attualmente uno a como ma sarebbe giusto ampliare quello che è il numero dei centri antiviolenza non peraltro perché il covid in questi due anni di reclusione diciamo che uno degli effetti è stato quello di portare all'aumento delle violenze domestiche e quindi regione lombardia anche in questo caso può fare molto per aiutare le persone le donne a denunciare quindi oggi uno degli aspetti importanti quello che dicevi prima alla sanità ma anche quello della violenza delle donne maltrattate di questa situazione che rosaria conosce bene che oggi ci ha portato qua a testimonianza anche anche nuda cruda ma importante direi raffaele molto è molto importante e come dicevo soprattutto con la sua collaborazione si possono portare molte iniziative che diciamo vanno sono variegate sui vari spettri che riguardano quello che diciamo è la violenza o la discriminazione comunque delle donne come dicevo è molto molto ampio è un tema molto trasversale importante sentito e ripeto su cui regione lombardia può fare tantissimo e su cui è giusto avere al nostro fianco una persona capace come lei che possa aiutarci a fare bene almeno questa parte di lavoro perfetto interventi interventi immediatamente di ristrutturazione radicale del sistema tutela della sistema della protezione della donna dei tribunali su come funzionano i tribunali perché i tribunali non funzionano così come sono delle comunità così come sono e degli affidi così come sono quindi necessita urgentemente una ristrutturazione necessita la formazione o direi meglio la riformazione degli apparati di polizia degli apparati dei servizi sociali perché veramente dietro queste mie parole che sono molto semplici e forse se appariranno forse troppo semplici c'è un mondo drammatico a cui bisogna dare voce e io sono qui per questo perfetto allora e raffaele andiamo a chiudere con te anche perché ho visto che c'è il manifesto santino diciamo chiamiamolo così vede in farlo vedere bene lo facciamo vedere ok ma anche per dire ecco come ero come sono è stato questo piccolo incidente sei sempre uguale infortunio e poi c'è la modalità ok ecco quindi magari voto questo allora giusto giusto per dire la scheda la scheda elettorale sarà composta da diversi simboli con degli spazi dove mettere le scritte e poi dopo avremo anche quello che è il candidato presidente il suggerimento è maiorino ovviamente quindi croce sul simbolo in questo caso movimento 5 stelle iscrizione di quello che scrivere quello che è il nome può essere in questo caso erba o e o rosaria battaglia per dire che cosa può essere utilizzato sia un nome maschile o femminile oppure entrambi maschile e femminile appartenenti a quella lista e poi dopo una croce sul candidato presidente in questo caso per francesco maggiorino io mi sento di consigliare questi poi la questione siamo perlomeno in prossimità del voto 12 13 febbraio abbiamo questa opportunità di cambiare finalmente passo in regione lombardia e questo è l'appello ci siamo lamentati tantissimo della sanità delle liste d'attesa la mancanza di prossimità di sanità di prossimità ovvero di territorio i pronti soccorso i pronto soccorsi che purtroppo sono sempre ingolfati andiamo avanti tre nord mettere anche la siccità il livello minimo del lago perché anche quello sono di competenza di regione lombardia abbiamo tantissime lamente io girando per quelli che sono i mercati continuo le strade in giro parlando con le persone con la gente continuo a sentire tantissime lamentele sulle parti di competenza di regione lombardia allora non diamo ancora fiducia quello che mi sento di dire basta dare fiducia a chi per 28 anni ha sempre portato avanti certe politiche e abbiamo visto cosa hanno prodotto come siamo ridotti in determinati ambiti forse è arrivato il momento di cambiare anche un po aria a questa regione per cercare di ecco offrire un'opportunità che si propone come alternativa una strada è stata percorsa adesso si può cambiare strada e andare in un'altra direzione sappiamo la prima dove ci ha portato questa potrebbe essere invece una strada nuova io chiedo fiducia chiediamo fiducia anche come come candidati e perlomeno penso che sia arrivato appunto il momento di poter cambiare rotta nella nostra regione penso che un'opportunità spero possiamo almeno ottenerla io allora perfetto chiudiamo ma rosario voi ho un minuto di tempo ancora a disposizione prego dai se mi piacerebbe portarvi delle testimonianze scritte però mi viene in mente solo questa cosa che mi è arrivata proprio mentre venivo a como allora una donna che mi scrive dicendo che è andata in tribunale stamattina dopo tre mesi di attesa e quindi voi vi lascio immaginare l'ansia di questa attesa per questo dopo tre mesi si arriva in tribunale e ti viene detto no non è arrivato la persona x viene rinviato al 14 di marzo questa è una parte l'altra parte che mi ha colpito un'altra donna che mi ha scritto era che mi diceva ma è possibile rosaria che succeda una cosa del genere stavo andando in tribunale a far deporre come testimone mio papà suo papà gli è venuto una sorta di ictus in macchina lei comunque non so come ha fatto i preamboli non li so e comunque è riuscito andare in tribunale perché aspettava questo tanto tempo per finalmente arrivare al dunque e invece quando arriva lì dice ma dov'è suo padre come testimone mio papà non c'è perché gli è venuto un ictus con tanto di documenti multa 150 euro perché lei non è presente allora questo è il paradosso succedono queste cose i tribunali non funzionano mi dispiace ma lo devo proprio dire allora grazie grazie rosaria della tua testimonianza e grazie raffaele grazie purtroppo sappiamo e lascio giusto per chiudere su una questione che dice che ha portato anche l'attenzione rosaria purtroppo sappiamo anche lì abbiamo tante persone che lavorano molto bene purtroppo come in tanti ambiti pubblici tribunali ma così come pronto soccorsi come tanti servizi pubblici sono sottodimensionati dal punto di vista del personale e questo comporta purtroppo le grandi difficoltà che abbiamo cosa dobbiamo fare si può riorganizzare si può digitalizzare ad esempio si possono fare tantissime cose però serve la volontà lo vediamo nel pubblico nel nazionale lo vediamo anche a livello regionale serve la volontà io facevo il parallelismo su quello che erano ad esempio le digitalizzazioni per quello che erano le agende uniche per quello che riguardava i centri di penotazione allo stesso modo per fare un parallelismo i tribunali più si lavora verso la digitalizzazione più si alleggeriscono determinati o determinati lavori queste sono le cose da fare sono cose semplici ma bisogna avere le mani libere per poterle fare grazie Raffaele grazie a Rosaria candidati regionali per il Movimento 5 Stelle